Una buona serata da Bruno La Voce di Roma. Mi preme far notare a chiunque mi ascolta e mi segue che con il coronavirus i grandi manovratori della terra stanno riuscendo ad avere il nostro DNA di tutto il mondo compreso. Con il fatto del tampone saremo tutti quanti schedati, anche con il laser e quant' altre cose si sono inventati. Se prima era un qualcosa fuori pelle oggi è dentro di noi, quindi il microchip lo hanno inserito. I tamponi sono importantissimi così hanno il DNA con il nome e il cognome di chiunque se lo sta facendo o glielo hanno fatto. Questo è molto grave perché ci stanno manovrando come vogliono loro. Riflettete, riflettete. Una buona serata da Bruno La Voce di Roma. La Voce di Roma